Sabato 9 ottobre, un'altra avventura per il team di Domiso The Box, questa volta andiamo ad incontrare un ospite del nostro salotto, stage con Mirko Zanni, quindi medaia olimpica ragazzi, ne vedremo delle belle. Carlo, sei pronto? Sì, lo stage per migliore pull up questo, giusto? No, 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 snatch e come zè, no, no, non sei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, ho sbagliato le calze oggi, le calze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Day 2 del workshop di Mirko Zanni. Oggi andremo, andrà perché farà Carlo, a provare il clean and jerk. Come ti senti Carlo? Sei pronto? Distrutto dal fail di ieri. Sì ragazzi, perché Carlo ha provato gli 80 e niente. Di cosa però? Di? Di snatch. Di snatch e non ci siamo riusciti. Eramo lì lì, eh, eramo lì lì. Vediamo oggi se la prova andrà diversamente con il clean and jerk. Ci aggiorniamo. Ciao. Amirti. Grazie a tutti. 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 Come ti ho insegnato, spingi col piede, non ti accontentare. Un po' di niente, vabbè. Lascia. Sì, no, però... Allora, ti ritardai di più, mi ha detto... Allora, Carlo, finito il workshop? Come è andata? Finito lo pensi te? C'è ancora un world finale, ma lo farai forse? Hai ancora energie? No, dormito così. Quindi, insomma, stringendo, stringendo il succo di questi due giorni? Ho imparato un po' di cose, ho imparato un sacco di cose, molte tips, che sicuramente mi miglioreranno. Non sei riuscito a fare PR di nulla? No, io che sì, comunque, anche se... È vero, è vero? È da 72 a 75. Ok. Basta. Oggi non sono riuscito a fare 100. solo rimandato da... Scusate. Scusate. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!